Le avevamo annunciato che praticamente avremmo messo a confronto il calcio ma non è che stiamo a parlare dei dinosauri però il calcio di una volta e il calcio di adesso dice vabbè come avete fatto a fare questa cosa? Abbiamo chiamato due allenatori intanto per ospitalità e per galanteria noi andiamo a salutare subito la nostra amica Patrizia Panico come stai Patrizia? Ciao ragazzi, tutto bene? Ciao Patrizia Allora intanto Patrizia complimenti, congratulazioni vivissime perché so che tu hai superato praticamente l'esame UEFA Pro che praticamente ti dà la possibilità di poter allenare qualora qualcuno te lo permettesse una squadra di 6A e quindi insomma io credo di aver capito che soltanto tre donne su un migliaio sono riuscite a fare una cosa del genere dici un po' Allora in questo corso qui siamo stati in trensi precedentemente in questo UEFA Pro ce l'hanno già preso, acquisito Carolina, Beto Pagnoli, Bertolini Stiamo parlando di nomi che si contano sulle dita di due mani Ah sì voglio dire, non è che c'è proprio tutta questa cosa chissà che cosa ne pensa Nedo Sonetti dell'allenatore donna Nedo Nedo dovrebbero farmi passare professionista attentivo che stavano parlando devono essere professionisti anche loro o perlomeno semi professionisti insomma però Patrizia tu lo sai che noi siamo amici e quindi io me lo posso permettere ma tu alla fine del primo tempo quando entri dentro uno spogliatoio Sì Eh Cioè Che succede? Cioè voglio dire, non è che stanno tutti vestiti Ma si fa rispettare, lo sì Ma tu direi, lo so Eh, che succede lì? Cioè poi tu adesso alleni l'under 15 No, l'under 17 No, adesso collaboro anche con l'under 21 entrata nello staff, è vero Patrizia? Sì, collaboro con la 21 Sì, sì Ma non mi prega niente Cioè, parliamo proprio di Cioè, là c'è una carica ormonale Ma ti devono sempre rispettare Sì, sì, che carità Però No, ma C'è imbarazzo Cioè, fammi adesso a parte io scherzo con te Ma c'è un po' di imbarazzo oppure Lì poi non Si parla di calcio e basta Sì, ma assolutamente Ma nessuno sta staccato Proprio niente Cioè, le persone che Che sono un po' scelti Che sotto questo punto di vista Perché non hanno mai Visto Com'è Come è Tra noi Tra noi I ragazzi Tutte persone che Dovrebbero Magari venirsi a trovare E vedere com'è Allora, io chiedo A Neto Sonetti Che, voglio dire Può Insegnare calcio a chiunque Abbiamo Noi nutriamo una grandissima stima Sappilo nei tuoi confronti Neto Voglio dire Come è cambiato questo calcio? Cioè, voglio dire Tu adesso ti sei tirato fuori Perché giustamente Ti vuoi un po' riposare Però Mi fanno riposare Ma no, no Perché tu saresti disposto Ad allenare ancora? No, vabbè Adesso devono allenare Quelli più giovani Insomma, no? Ecco, la cosa che mi dispiace È che quando io facevo L'elenatore Non c'era mai un giocatore Come la ragazza che è lì E non sarebbe stato bello Grazie mister Grande Capito Cioè, Patrizia Allora, intanto Allora, è anche brava Insomma No, Patrizia Panico Oltre ad essere brava È la Silvio Piola Del calcio femminile È la bomber dei bomber Dei bomber per eccellenza È la ragazza che ha sognato Più gol in assoluto Nel calcio femminile Proprio di tutti i tempi Capisci? E quindi E quindi poi è rimasta Nel mondo del calcio Ha coltivato questa passione La fede del calcio Gli ha dato delle possibilità E adesso ha fatto questo esame Ed è diventato un allenatore A tutti gli effetti Patrizia, volevo chiederti Tu hai fatto proprio un esame Leggevo appunto nell'articolo Che hai fatto un esame Proprio sui modi di fare gol Vero? Cioè, la tua tesi È stata proprio su questo Vero Patrizia? Sì È stata proprio È stata proprio La ricerca del gol Perché Sì Vedendo un po' Il mio trascorso da giocatrice Vedendo un po' Il calcio come evolve Le spese che cambiano Sempre in continuazione Secondo me Bisogna dare sempre più Alternative alle squadre Per trovare il gol Io volevo chiedere Anneto Sonetti Sì Se ti chiamassi adesso Una squadra In Serie A Sì Con quale modulo Giocheresti? Beh Questa è una domanda Che Non c'è una risposta Decisa Perché È inutile fare Dei numeri Come fate voi giornalisti Che vi divertite Per fare In allenatore Bisogna vedere Chi c'hai come giocatore Quali sono le qualità Del gruppo di giocatori Che hai a disposizione E da lì Puoi fare Il 4-3-3 4-4-2 Quello che ti pare Però Non può prescindere Dalle qualità Grazie a tutti i giocatori Patrizia Panico Stessa domanda per te Vediamo se la risposta è uguale Cioè il sistema Il sistema di gioco Per me Per come la penso io Te lo danno i giocatori I giocatori che hai a disposizione In base alle loro qualità Fai il sistema di gioco più adatto Che possa far esprimere al meglio loro Ho capito C'è stato un cambiamento nedo Nel mondo del calcio C'è stata un'evoluzione A parte queste piccole Questi piccoli cambiamenti Delle regole Il retropassaggio al portiere Eccetera eccetera Il fuorigioco La var Eccetera eccetera Che poi tanto piccola non è Però voglio dire C'è stata un'evoluzione Da quando giocavo io Ma anche da quando facevo l'allenatore Chiaramente sono cambiate diverse cose Insomma no Perché Insomma Prima direi che Quando io giocavo perlomeno Si giocava in difesa Si giocava uomo Adesso Diciamo che Non lo fa Quasi più nessuno Anche se Certe volte Sulle calci piazzati Sulle palle inattive Io vedo Che si fa Delle zone Che sono veramente Delle zone pedonali C'è la manna Per i giocatori Come la panico Che si fa Ti gofferebbe Non si può Magari perdendo Quelli che erano Le caratteristiche Forti degli italiani Di andare Molto bene In marcatura Individuale Adesso Devo dire Che sta anche Un po' Ritornando Questa idea L'idea Di avere Delle difese Che alterniano Un po' La difesa Uomo Con la difesa Zona Andrea Pirlo Che allenatore Sarà Secondo voi Siete curiosi Di vedere All'opera Parto da Nedo Sonetti E poi Patrizia Panico Nedo Andrea Pirlo Sì Che allenatore Sarà Tanto È un ragazzo Intelligente Lo ha dimostrato Come calciatore Ma anche Lo dimostra sempre Anche nella sua vita Normale Devo dire Che Pirlo Ha tutte le qualità Per diventare Veramente Un allenatore Bravo La cosa importante È che La Juventus Gli dia La possibilità Il conforto Di esprimere Le proprie idee Patrizia Da giocatore Ha dimostrato Di saper ragionare In campo Ha dimostrato Di conoscere Il calcio Alla meraviglia Deve acquisire Esperienze Ha Fortunatamente La possibilità Di acquisire Esperienze Già Subito Importanti Quindi Ha tutte le carte In regola Per poter Far bene Patrizia Una curiosità Armini Questo difensore Della Lazio Che sicuramente Ha fatto parte Dell'Under 20 Avrà la possibilità Di entrare nel blocco Dell'Under 21 E secondo te Si ha dei margini Di crescita Ma Nicolò Ce l'ho avuto io In 16 È un ragazzo Intanto molto serio Un ragazzo Che lavora In maniera Senza Senza far Fristrarre Da niente È un 2001 Quindi comunque È un ragazzo Che ha un futuro Davanti a sé È impressionante Sta facendo Molto bene Con la Lazio Si allena Stantemente In prima squadra Ora Dove può arrivare Questo dipenderà Da lui Dipenderà Dalle situazioni Che capitano Perché molto spesso Poi il percorso Di un ragazzo Dipende molto Dalle situazioni Che possono essere Più o meno Agevoli Però Ha fisicità Ha un buonissimo Controllo Cosa che si chiede Ormai adesso A tutti i difensori Ci ha costruito Dal passo È un giocatore Però dovrebbe andare A fare un po' D'esperienza Perché secondo me Questi ragazzi Che vengono Dalla primavera Cioè voglio dire Devono Devono prendere Un po' di calcio Prima di Di tuffarsi Nel grande calcio Devono fare esperienze Con i più grandi Però bisogna anche Avere il coraggio Di metterli Un ragazzo Il 2001 Bisogna anche avere Un po' il coraggio Di farli esordire In serie A In serie B Dove si trovano Cioè alla fine Dal ragazzo Noi chiediamo Abbiamo sempre più Un occhio di riguardo Il ragazzo Può sbagliare E bisogna avere Il Così Il tempo Per permettergli Di sbagliare E sbagliando Può crescere Nedo Nedo Tu stai seguendo Hai seguito La scorsa stagione Della Lazio Sì In dire generale Insomma Seguo tutte le squadre Ok Allora A parte il fatto In quanto riguarda Un nuovo atteggiamento Tattico Fondamentale Patrizia Patrizia Di rifinitura Perciò Può fare Chiaro Con il 3-4 Hai un centrocampo Esatto Hai un centrocampo Un po' Un po' Più in linea Però Io credo Che la Lazio Può Permettersi Di schierare Questo Senti Io e Federico Ci abbiamo Un dubbio Un dubbio Amletico Patrizia Ma se Visto che sei diventato Allenatore No Ma se un giorno Ci invitassi A casa tua A pranzo Che ci faresti Mangiare Calcola Io sto a dieta Ma benedenti No Sei una che cucina O due uova Al tecamino Fatte così Non ho capito Ancora Due uova Al tecamino Al massimo Chiamiamo il catering Lo vedi È così Vabbè ma lei Innanzitutto È stata un atleta È un atleta Vabbè però C'hai due ospiti a casa C'hai Se chiamiamo il catering È giusto Il catering Poi ti dirai Che l'ha cucinato lei Invece magari Ah quindi Ci fa trovare Il pollo Ma scusate Ma piuttosto Invitatemi voi Lo vedi No però Scusa Io volevo sapere Se un'allenatrice Capito Era anche Una ottima cuoca Credo di aver capito Ottima no Però Quando ho tempo Mi è Però una carbonara Ce la facciamo Insomma Eh beh Certo Scommetti che se C'è in vita Nedo Che ci faresti Trovare Di buono Nedo Ah Ti farei trovare Un bella Zuppa di pesce È un'altra camminata Andiamo È un'altra cosa C'è da lì Senti Nedo Proprio un'altra cosa Ma tu hai i figli Nipoti Un bel cacciucco Eh Dico figli Nipoti Quanti ne hai Come siamo messi Nedo Eh C'ho tre nipoti Due figli Un po' rincoglioniti Ma no dai Ma poverini Nero uno Nedo Nedo Sei libera Va bene Ma magari insegna il 4-3-3 Pure tutti gli schemi Sui piatti Capito Però Per fare il cacciucco Ci vogliono degli artisti Eh Lo so Nedo Tu lo sai fare? No Sa mangiarlo Ah no Nedo Anche noi Guarda Noi a mangiarlo Siamo dei fenomeni Proprio dei fuori classe Dei fuori classe Il famoso Cacciucco alla Livornese Ma come si fa Nedo Eh Come si fa Quali sono gli ingredienti Ma ci sono i pesci particolari I discorsi Stiamo parlando di una zuppa di pesce Comunque Ci sono le triglie I discorsani Che sono brutti Brutti ma buonissimi Ma buoni Esatto Come il sapore Ci sono Cioè Poi le ore Le aragoste Questa roba qua Sì sì Anche le cozze Le vongole Gli scampi Le mazzancolle C'è un miscuglio di bontà È un miscuglio di bontà Va bene Mi ha fatto venire l'acquolino in bocca È anche ora di cena quasi Dai Va bene Sento che ride Sento che ride La La panico La stava apostrofando Che gli piacerebbe anche a lei Sicuramente Eh lo so È certo Eh lo so Non mi fate far battutacce Va bene Neto grazie Grazie Neto Sonetti Grazie a voi Buona serata Voglio fare un in bocca al lupo Carissimo Alla panico Perché è stata grande Come giocatore Deve diventare Grande Anche come allenatore Grande Un bel applauso Bravo Neto Bravo Neto Vero Grazie Prego Grazie Neto Ciao Arrivederci Ciao 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 Patrizia Quando ci viene a trovare qui in studio? Eh presto Presto Non so quando Non ti presenta a mani vuote però Adesso che succede adesso Patrizia Quando riprenderete insomma La preparazione e tutto ecco Allora con la 15 Con la 15 sarà un po' difficile Sempre un po' Dipenderà dai protocolli Per il covid Si si allentano un po' Però più o meno la previsione È quella di iniziare a gennaio Ma secondo te qualche matto Che ti dà una panchina importante Esiste o no? Ma ad oggi no Non so se vanno telefonato per me No 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 Però io Io adesso Perché poi con te siamo amici E scherziamo Però io Io la vedrei bene vicino a Inzaghi pure Io la vedrei bene Ma no Io la vorrei proprio vedere primo allenatore Ma pure io Cioè capito Una squadra Che ne so Una squadra emergente Un Bologna Una squadra così Capito? Bologna Al posto Quando Le suoneranno Fra cent'anni Milajlovic O fra due giorni Perché sai La vita degli allenatori Infatti la vita degli allenatori È durissima Patrizia È durissima Però Mi farebbe Pagano sempre per tutti Va bene Patrizia Ciao grazie Complimenti ancora Patrizia Ciao ciao E forza Lazio sempre